La Procura della Repubblica di Agrigento torna a scrivere al Comune della città di Templi, ma stavolta lo fa senza mezzi termini. Il sindaco Lillo Firetto avrà 30 giorni di tempo, a partire da ieri, per dare seguito al sollecito dei magistrati circa la demolizione degli immobili abusivi ricadenti nell'area del parco archeologico della Valla dei Templi. Dopo la nota dell'ufficio, reciterà la lettera che porta la firma del procuratore aggiunto Ignazio Fonzo, non è stato comunicato quali successivi e conseguenziali atti si stierà adottando, né si è aggiornata costantemente questa autorità giudiziaria sulle ulteriori iniziative intraprese. Si vorrà prestare, nel rispetto alle norme vigenti, ogni necessario provvedimento finalizzato alla demolizione dei manufatti abusivi di cui alle precedenti note dell'autorità giudiziaria. Per il sindaco di Agrigento Lillo Firetto si tratta di un termine congruo. Pensiamo di riuscire a rispettare il termine, ha detto il primo cittadino, ma nel caso in cui ciò non avverrà, la procura ha già fatto sapere che trascorsi 30 giorni senza concreta attuazione di quanto sollecitato si provvederà conseguenzialmente.